Chissà quando non si sa Almeno come minimo trent'anni fa La dropship sta per atterrare sul pianeta Ok analizziamo il pianeta Tacruyu Allora cosa possiamo intanto dire da questa situazione in cui ci troviamo? Beh il pianeta direi che è abitabile per delle forme di vita vegetali intanto Non vorrei dire ma ci sono delle strutture Rai laggiù e non mi sembrano tanto naturali e si muovono molto Potrebbero essere delle strutture aliene? Potrebbero Sembrerò gravemente danneggiate inoltre Sì effettivamente soltanto due si muovono Già Così questo pianeta potrebbe abitare sicuramente da piante E forse è stato anche abitato da una razza aliena in passato Guardate c'è l'entrata una città Raggiunsero quindi l'entrata la città e entrarono poi in un veicolo Ok Rividiamoci un attimo Io O dire che me ne vado Dove verso quella zona là Sembra una zona centrale della città Voi due Tu invece là Vai verso quella specie di zona col pratino Mentre tu invece ciano Devi andare invece nella zona opposta Capito? Sì signore Aiuto! Urlò il ciano C'è il live Cosa diavolo succede? Sono stato inserito da una forma di vita aliena Quindi esistono alieni? E qui? È una creatura di vita avanzata Ha parlato No 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 È una creatura quadrupede E mi ha iniziato Ha iniziato a fare dei versi E sono scappato Perché mi hai seguito Ok Vediamo un po' la creatura Vediamo un po' Sebrebbe essere un predatore Ma va? Mi ha provato a sbranare Eh vabbè Non potevamo esserne sicuri C'è da chiedersi se Se è il suo predatore Di quella catena alimentare Di questo posto Che è decisamente Sta abbandonato Da una razza aliena Signore Non è che questo È semplicemente Un abitante C'è un Come posso dire Un animale domestico Ecco Probabilmente è rientrato Do almeno Un discendente O al massimo Forse è evidente Per meglio dire Di un animale domestico Non lo so Ovviamente Alcuni animali O un animale Randaggio Che è stato lasciato indietro Per quanto ne sappiamo E quindi Semplicemente Si è adattato Alla vita Da Animale selvatico O era già adattato Per intenderci No? Potrebbe essere Ehi C'è un'altra creatura Laggiù Un altro quadrupede Mamma mia Questo lo dovremmo chiamare Il pianeta dei quadrupedi Uh Un altro predatore Anche se questo Non sembra volerci sbananare Decisamente Non volete Lime Ma sembrerebbe Che sbrani Un'altra tipologia Di quadrupede Più piccola Se trovassimo Dei dati Riguardati Le creature Da parte Degli alieni Sarebbe utile Almeno dovremmo Faticare di meno Nel Scoprire Queste creature Io Signora Ho trovato qualcosa In verità Davvero? Sì Le creature Che abbiamo appena visto Sono un topo Un gatto E un cane Praticamente I cani A volte Sono in teoria Creature domestiche A volte Sono randaggi E poi C'è anche Dei gatti Che sono tipo Quello la Che c'ha Il Affare in bocca E Praticamente Cacciano Punti topiche E Quello Affare in bocca È un topo E ci sono un sacco Di altri dati Riguardanti Altre Creatore Interessante Il pianeta Però Sembrerebbe Essere Efficiente Abitabile Ci basterà Distruggere Un po' Di Case Qua e là Tutta la Tutta la Leere Però Credo Che sarà Abitabile Il Tu cosa sei Oh Quanto sei carino Ti porterò Con noi Cosa hai trovato Lime Oh Quello è Un criceto Un criceto Da dove ha tenuto Quel nome Di quel nome Ciano È scritto Nei database Umani Come fai A sapere Che questa razzalina Si chiamano Umani Infatti C'è scritto Qua Ah Ok Qui I dropship A madre A nave A nave Madre Ci sentite Qui The scale A nave Madre Ci sentite Si Ti Si Ti sentiamo Cosa Succede Dropship Cosa avete scoperto Riguardante Il nuovo Pianeta Abbiamo scoperto Che c'era Che ci sono Forme di vita Da vegetali Animali C'è stata Una forma Di vita Da Intelligente In passato Ma ormai Non esiste Più Sembrerebbe E inoltre Ci sono anche Creature Sia Gentili Che no Una mi ha provato A sbranare Mentre un'altra Ce l'ho qui Con me Che vuol dire Lì con te La sto tenendo Come animale Domestico Ok Il pianeta Potrebbe essere Nuovo Per Buono Per Metterci Sul pianeta E Utilizzarlo Credo Di sì Almeno Non so Per se ci sono Abbastanza risorse O altro E se Magari Gli umani Gli umani Chi sono Ah Giusto Sono la razza aliena L'abbiamo scoperto Tramite dei database Ci sono un sacco di creature Sul pianeta Fatto sta che E non so Se ci sono Un sacco di Minerali O altro Vabbè Comunque Direi che almeno È un luogo abitabile Per il momento Sa com'è Il nostro pianeta Natale È distrutto Sì lo so È stato uno shock Anche Che per Mio nonno Sa Quando è esploso Quel Il nostro pianeta Natale Mio nonno Inovidente E Esploso Sì perché Non è esploso Come non è esploso Mio nonno Mi ha detto che è esploso No Per semplice Semplicemente Beh Come posso dirlo Semplicemente Beh Non so Per come dirglielo Cioè Se vuole Non me lo dica Rimarrò con la storia Di mio nonno Che Diceva che era esploso Forse è meglio Ok Rimarrò con la storia Di mio nonno Alla prossima Sì ma Alla prossima volta Che le darò notizie Alla prossima Ok Ora Ora dovremmo Studiare Un modo Per sistemare Tutte le situazioni Sul pianeta Va bene Non è un problema Dai Ci riusciremo Mi chiedo Che fine abbia fatto Questa razza aliena Questi Umani E direi che Per questo video Può anche essere duro Ci vediamo Un prossimo Nel prossimo Video Ciao Ciao